Buongiorno e buongiorno Radio Macedo Trip. Oggi siamo qua con Nutella Biscuit, un nuovo sponsor. Succo d'ananas e due brufen perché il mare di schiena persiste. Oggi ci svegliamo così, bam! Siamo al birthday classic di Fido e Sarra, qua nella penura dell'Emilia, o collina come dice qualcuno, e la pista è di qua. Io ormai sono un residente, è due giorni che sto dormendo qua nel mio van. E bello, 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 bel posto, bella pista. Ieri abbiamo sistemato anche in fondo un fettucciatino per fare un po' le stupidate. Abbiamo modificato un po' la pista lì dentro, perché ci sono un paio di salti troppo grossi per le pit e siccome noi vuole correre in pista dove le piste sono a misura per le pit, qua abbiamo fatto le modifiche giuste, corrette, per correre con delle pit normali. Quindi oggi ci divertiremo un sacco, ci sarà un botto di gente e siamo super mega gasati e non vediamo l'ora di salire in moto e soprattutto che mi passi il costo mal di schiena grazie ai nostri antidolorifici. Non vediamo l'ora di prendervi. Io e gli occhiali più tamali di tutta Corfu vi salutano, ci vediamo dopo quando arriva un po' di gente. Buongiorno buongiorno, benvenuti al Bird Day Classic. Qua abbiamo uno dei due festeggiati, l'altro non si può ancora festeggiare perché non è ancora il suo compleanno. Salute a te Sara. Facciamo vedere anche gli adesivi. Adesivi fatti apposta per l'evento Bird Day Classic Tripodash. Andiamo a fare dentro due giretti e scaldarci un attimo che fa un po' freschino. Noi! secondo me tipo bellison è il salto di questo qui e quello da prossimo ammazzo è una bombetta adesso adesso prendo quella di ex si si mettilo in mezzo mi stavo molto divertendo 3 2 1 via forse ancora per te non frena, non frena tieni, 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 tieni portami alla mia prendo i mochi, prendo i mochi lo hai spento mi faccio male, mi faccio male con sto cosa mi faccio ma sei matto con sto coso non riesco a fermarmi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.